Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ci troviamo nel mondo maledetto ragazzi, nel mondo dove si pensa ci sia Aeroprene E cosa diavolo è successo a quella foresta, scusate? Per quale motivo? No, 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 guardate ragazzi, la foresta è completamente disboscata Cos'è successo? Neanche il tempo di iniziare l'episodio che già va tutto a rotoli Ma ragazzi, io qua non ci sono mai stato, eppure guardate Tutti gli alberi sono tagliati, il fungo addirittura è tagliato, non ci sono più delle foglie Io vi posso assicurare che non sono mai stato qui E questo è molto strano e ambiguo, ho sentito un'esplosione Qua abbiamo tantissima lava, ok, wow Allora, c'è da dire ragazzi una cosa molto positiva Aeroprene non mi ha tormentato per tantissimo tempo Quindi sono riuscito a fare un pochettino di roba Ma oggi vorrei andare a fare una missione veramente molto molto speciale Quindi riuscire a trovare dei diamanti Io non vedo veramente l'ora E qua abbiamo trovato una bella caverna Sperando che questa sia una caverna bella succulenta E ci dobbiamo prendere assolutamente ragazzi delle torce Perché altrimenti non vedete nulla E poi vi lamentate tutti quanti nei commenti Quindi facciamo un pochettino di carbone perché questo ci mancava Ok, perfetto Ce la dovremo fare con le torce Dicevo voglio prendere dei diamanti perché me l'avete detto in tanti nei commenti Ho detto Kendall vai a esplorare adesso Tanto abbiamo capito che se provi a fare una casa Aeroprene te la distrugge Quindi è vero Avete ragione Vediamo un pochettino di esplorare Sperando che non si sia svegliato con il piede Sbagliato oggi Aeroprene Che non sia nel server Spero soprattutto che non sia in questa mappa Ma a giudicare da tutte queste esplosioni Mi sa proprio che c'è qualcosa che non va O è stato un creeper che a sua volta ha fatto esplodere Altri 150 creeper Ma soprattutto dove Dove sono state queste esplosioni? Non capisco Io non vedo alcun buco E allora saranno state da un'altra parte Saranno sicuramente state da un'altra parte Ragazzi sono veramente curioso di vedere Cosa potrà succedere in questo episodio Se riusciremo una volta per tutte A completarlo senza essere trollati Senza morire E soprattutto trovando quello che vogliamo trovare Quindi dei diamanti A me piacerebbero tantissimo dei diamanti Per favore caverna Si generosa con me Qua c'è un creeper Ok nulla di strano ragazzi È un semplice creeper spuntato in natura Non è Non ci dobbiamo preoccupare di ogni minimo dettaglio Che troviamo nelle caverne Soprattutto perché è pieno zeppo di mostri Ed è normale che lo sia Qua che cosa c'abbiamo? C'abbiamo della gravel Ok Che dovrebbe condurre da qualche parte È vero che conduci da qualche parte Uh uh Bello mi piace Aspettate Se questo qua lo metto qua forse è meglio Ok sì 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 Molto meglio La caverna continua Sembra essere una bella caverna ragazzi Guardate quanto è grande Però noi Ok Però noi dobbiamo arrivare al livello 12 Per prendere i diamantozzoli Altrimenti non facciamo nulla Siamo qua inutilmente È pieno zeppo di mostri E la cosa non mi piace per nulla ragazzi Wow 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 Che c'è una festa qua E perché non sono stato invitato Che è sta festa di zombie? Ma che sono tutti questi zombie? Sapete cosa? Io vi lascio qua Tanto siete lenti e senza cervello E me ne vado Ci vediamo Ciao zombie No 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 Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio È nato un creeper proprio davanti a me È nato o è stato spawnato? A questo punto non lo so ragazzi Non so veramente di chi fidarmi E qua sono in un vicolo gecko Dobbiamo uscire Dobbiamo andare da un'altra parte Della caverna No 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 Non esplodere per favore creeper Si buono Si buono e muori Si buono e muori Fammi questo favore Ai 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 Ok È esploso Non importa Non mi ha fatto nulla Non mi ha assolutamente toccato Molto molto bene Dobbiamo andare via ragazzi Non mi piace per nulla questa caverna Dobbiamo trovare un buco migliore Possibilmente Con meno mostri E soprattutto con meno creeper Che credo sia No 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 Oh Pensavo fosse morto Pensavo fosse morto di donno da caduta E che ero salvo E qua è pieno zeppo È pieno zeppo di mostri Di zombie Di creeper Di scheletri E se cado qua Che succede? Mi sa che se cado qua Muoio Mi faccio tanto 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 male Muori scheletrino Devi morire Adesso Oh qua c'è della red zone Siamo arrivati al livello 15 Molto bene Che significa Che ci possiamo prendere Finalmente Un pochettino d'oro Ah Proprio quello che ci serviva L'oro Così ci facciamo le golden apple E tutto quello che ci serve E che Perché c'è Che sta succedendo? Perché c'è la lava? Qualcuno mi spieghi Per quale motivo C'è della lava che cade dal soffitto Io non ho toccato nulla Ora a meno che Si è tipo rigenerata da sola Da un momento all'altro Dubito che Questa lava Dov'è? No 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 Oh no 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 Sta cadendo ancora Non ci posso credere Abbiamo trovato i diamanti E che diamanti? Ma che cavolo? Ma Che sono tutti questi diamanti ragazzi? Aspettate aspettate Facciamo così Bene E attraversiamo C'è un piccolo Grande problema ragazzi Qualcuno ha bloccato La via d'uscita E anche la via d'entrata Con la lava Cavolo Come faremo adesso? Però non importa Perché qua abbiamo tantissimi Pai diamanti Oh mio dio Non vedo l'ora di prenderli tutti Allora facciamo una cosa Buttiamo l'acqua In modo Oh 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 Cos'è? Una testa di Steve Ma quella No 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 Quella è la testa di Aerobrand Quella è la testa Quella è palesemente La testa di Aerobrand Non mi dire che è un suo trucchetto Per uccidermi Forse quelli non sono veri diamanti Però non è giusto ragazzi Non esistono i finti diamanti Devono essere per forza veri Non è possibile che siano finti Sapete cosa ragazzi? Mi è venuta un'idea Proviamo a raggirarlo Facciamo una cosa Lui non si accorgerà mai Che sto facendo il giro Quindi io mi metto qua Zitti 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 Dobbiamo stare shiftati Voi non glielo dite eh Non vi azzardate a dirgli a Aerobrand Cosa sto cercando di fare Speriamo soltanto che non mi senta Ok se faccio il giro Risco a prendermi i diamanti Senza che lui se ne accorga E in questo modo Sicuramente ragazzi lo trolliamo Oh ecco Sono proprio sopra i diamanti ragazzi Sono sopra i diamanti Non devo far altro che scendere adesso E prenderli tutti quanti Siete pronti? Ok No 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 Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto No 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 Non mi piace Andrà via prima o poi Andrà via Ma poi soprattutto come fa Ad esserci soltanto il corpo Aspettate Piano piano Oh 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 Sembra che se ne sia andato Ah no 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 È spuntato È spuntato Sembra quasi che mi senta ragazzi Sembra veramente quasi che mi senta Allora togliamo intanto tutta questa lava qua Perché ho paura di morirci Da un momento all'altro Praticamente per colpa di questa lava E sembrerebbe che adesso Sia andato via E perché ci sono dei blocchi che volano? No ragazzi qualcuno mi spieghi Per quale motivo Quei blocchi stanno fluttuando Quei blocchi stanno palesemente fluttuando Allora prendiamoci questi diamanti Ah 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 No 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 Che è successo? Ragazzi io già in caverna Mi vengono le paranoie Poi se mi arrivano i pugni addosso Prendiamoci diamanti va Prendiamoci Prendiamoci i diamanti Perché non funzionano? Perché non si riescono a prendere i diamanti? Qualcuno mi spieghi per favore Per quale motivo non riesco a scappare No 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 Io mi rinascondo qua E mi barrico Ciao ci vediamo Così non può entrare sicuramente Oh mio dio Ok Qua non c'è verso che può entrare No 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 È entrato È entrato È entrato Oh mio dio Scappa 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 No Perché c'è Ragazzi che sta succedendo? Non mi consigliate mai più Di andare In caverna Sarà andato via È andato via Sembra Sembra di sì Sembra sia andato via Ok ragazzi non mi consigliate mai più Di andare in caverna Perché abbiamo capito tutti quanti Cosa succede quando provi ad andare in caverna Andiamoci a prendere questi benedetti diamanti E usciamo finalmente Da questa caverna Maledetta Non ne posso più Non ne posso veramente più Perché i blocchi fluttuano? Perché io sto volando? Non mi dire No Non ci posso credere Ragazzi tutto questo era un troll Era un troll di Herobrine Questi non sono dei veri diamanti Sono bloccati Guardate Non me li fa prendere Non ci posso credere Non è possibile che l'ha fatto Come ha fatto soprattutto? È proprio impossibile Cosa sta succedendo? No 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 Oh 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 Forse li posso prendere adesso Posso? No Non me li fa prendere Non me li fa prendere ancora No ragazzi non è giusto Non è giusto Guardate Sono in trappola Sono praticamente in trappola Devo uscire Devo uscire da questa caverna Abbiamo capito che questi diamanti sono bloccati Sono soltanto un ologramma ragazzi Non li posso prendere effettivamente Io ero così contento Voglio uscire Basta basta Questa caverna non mi piace Troppi problemi ragazzi Troppi mostri Troppi troll Non è assolutamente divertente No 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 Devo per forza scappare Ciao ci vediamo Herobrine divertiti con i tuoi diamanti finti Vai a trollare qualcun altro Va trolla tua sorella Herobrine Mi sa se Herobrine c'è una sorella Credo che ce la faremo uscire giusto? Ci dovremmo riuscire vero? Ci saranno altri diamanti? No 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 Basta Là c'è dell'oro Ma sapete cosa ragazzi Io lo ignoro Lasciamo perdere quell'oro Perché mi stanno venendo degli infarti E' meglio se scappo via Ancora continua a esplodere tutto Ma è sopra la mia testa Sta esplodendo tutto qua sopra Che c'è? Che sta succedendo ragazzi? Aspettate Facciamo così Facciamo così e saliamo sopra Poi la situazione si mette veramente male E sta diventando tutto molto molto critico Io scappo Posso uscire? Dai quanto manca? Ok Ok Oh Finalmente Ragazzi A meno che questo video dovesse arrivare alla bellezza di 5000 mi piace Mi sa che la interrompo qua Perché No 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 Non è proprio possibile Ho troppa paura io di questo Aerobrine Coniglio dove pensi di scappare? Torno subito qua Oh Che è stato questo rumore? Che cos'è sta? Ragazzi l'avete sentito anche voi? E' lui E' lui Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo C'è una spalla in diamante C'è una spalla Cosa sta succedendo? Che sono questi rumori? No 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 Perché viene contro di me? Perché sta venendo qua? Perché? Ah ah No 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 Mi insegue Per quale? Aia 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 Che dolore che dolore che dolore C'è un cuore Cosa? Cosa? Non è possibile Non è possibile Mi devo nascondere da qualche parte Facciamo così Aspettate Allora togliamo questo blocco Zitti 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 Così non mi può vedere Ragazzi Vedete anche voi quello che vedo io? Quello è un Wither Quello è un dannatissimo Wither Oh no Mi sa che lui vuole Che io combatta il Wither Ma io non lo voglio combattere Ragazzi L'episodio finisce qua Ci vediamo nel prossimo episodio Dove cercherò di combattere questo Wither Ma sicuramente non ce la farò Adesso Zitti tutti E nascondiamoci qua dentro Ciao